Tamara è aerodinamica, stilosa e luminosa. Tamara è aerodinamica perché si ispira ai fanali delle auto degli anni venti e alla famosissima pittrice Tamara dell'Impicca e al suo autoritratto sulla Bugatti Verde. Rappresenta dei temi assolutamente contemporanei, trasgressione, velocità e innovazione e con i colori con cui viene presentata si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Tamara è luminosa perché oltre a fare una luce concentrata verso il basso si autoillumina grazie al diffusore convesso che crea un filo di luce verso l'esterno e al fatto che lo stesso diffusore porta luce riflessa verso l'alto. Grazie a tutti.